Il peggio è arrivato, annunciato, si è presentato puntuale a fine agosto. Il 28 di questo mese l'azienda Tagina ha comunicato ai sindacati l'avvio della procedura di mobilità per 48 lavoratori. Si tratta di personali in esubero rispetto all'attività dell'azienda che oggi ne conta 150 al libro paga. Non si esclude che con l'attivazione del secondo e terzo forno alcuni di loro saranno richiamati ma al momento la situazione impone la mobilità. Il problema è legato al fatto che Tagina si trova in amministrazione straordinaria il gruppo che l'ha rilevata lo scorso aprile composto dalle laziali Circular Ceram, SRL e Pro Business risponde del proprio operato al tribunale presso cui i precedenti soci avevano aperto la fase concordataria per evitare il fallimento. Di conseguenza non è consentita a Tagina di aggravare la situazione debitoria e in assenza di cassa integrazione, provvedimento di cui si è fatto ampiamente uso negli anni indietro tanto da esaturare il pacchetto, l'unica via resta licenziare quei lavoratori attualmente non in attività. Un colpo durissimo per 48 famiglie, quasi tutte di Gualdo Tadino. La speranza si appunta al 10 settembre quando finalmente aziende, regioni e sindacati saranno ricevuti dal Ministero del Lavoro per trovare una soluzione al problema. Dopo la mobilitazione di questi giorni infatti qualcosa si è mosso e quantomeno è stato convocato un tavolo. Il finanziamento per garantire la cassa ai 48 lavoratori c'è già. Lo ha messo sul piatto la Regione Umbria, serve tuttavia all'autorizzazione del Ministero che potrebbe essere data, secondo i tecnici della Regione Umbria, facendo leva sull'accordo di programma delle aree di crisi ex Merloni. È essenziale, afferma oggi Euroangeli della Filchtem CGL Perugia, che dall'incontro del 10 settembre arrivi una soluzione concreta che permetta ai lavoratori di mantenere il loro posto di lavoro e uscire dall'attuale fase di totale incertezza. Tra le ipotesi a cui si sta lavorando quella di organizzare per il 10 settembre un presidio dei lavoratori sotto la sede del Ministero a Roma.